Intesa lascia San Macario con buona pace di chi è poco tecnologico e di chi fatica a spostarsi. Sì, beh, crea disagio il fatto che questa filiale chiuda, anche perché ci spostano di qua e di là senza chiedere anche un parere. La notizia di qualche giorno fa ha già scatenato più di una polemica. A breve, la filiale bancaria chiuderà lo sportello della popolosa frazione incastonata tra Samarate e Ferno, scelta legittima, almeno quanto controversa. Per gli anziani, per gli anziani, per gli anziani che non riescono a fare da casa. Ma la peggiora cosa la facciamo da casa? Bisogna adeguarsi. I sindaci fanno del loro meglio, ma il dialogo con un colosso bancario non è dei più semplici, anche perché la libera scelta di un privato non può essere certo ostacolata, ma solo sconsigliata. È da qualche giorno che in paese circola la voce che la Banca Intesa San Paolo chiuderà la filiale qui nella frazione di Samacario. Ieri siamo stati convocati io e il sindaco Filippo Gesualdi di Ferno, di cui ci hanno confermato che il 18 giugno sarà l'ultimo giorno di apertura. Per la frazione di Samacario sarà diventando un grosso problema, soprattutto per le persone più fragili. La risposta degli addetti ai lavori è più o meno sempre quella. Meno costi per noi, più servizi telematici per la clientela. Ragionamento che non farebbe una piega se non vi fossero anziani con scarsa dimestichezza con internet e con molte difficoltà a muoversi nella sede più vicina. Non tutti sono tecnologici, quindi non possono recarsi nella città di Lonate per fare operazioni. Per noi è veramente un grosso problema. Noi abbiamo parlato con i vertici, gli abbiamo chiesto se potevano ripensarci questa operazione. Legittimissima, per l'amor di Dio, però crea un grosso disagio per la frazione di Samacario. C'è quale che vanno a piedi? Dove vanno? Come facciamo? Non lo so io. Io dico la verità, io qua con la bicicletta arrivo e a Lonate cosa devo dipendere sempre dagli altri a farmi portare.